Appuntamento al 21 dicembre con la speranza di non dover fissarne altri. Questo è il bilancio del tavolo convocato dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per porre fine all'avvertenza che vede protagonisti i 126 ex lavoratori Oshan di San Nicola di Melfi, fermi da oltre un anno. Non abbiamo semplicemente riaggiornato il tavolo perché fissare un nuovo incontro al 21 dicembre con la volontà unanime da parte di tutti e nel senso di trovare una soluzione finale. Dal vertice a cui hanno partecipato in videoconferenza sia il consorzio CISA che gestisce il sito, sia Margherita Distribuzione che si occupa di tutte le attività che facevano capo ad Oshan, è emerso che a essere in bilico oggi sono 100 persone. Tra i 26 mancanti c'è chi è stato reimpiegato da CISA in altre cooperative e chi ha scelto di dimettersi per un altro lavoro. CISA non ha escluso la possibilità che anche altri 20 ex lavoratori vengano assorbiti dall'azienda Cereal Italia, già operativa nella sede di San Nicola di Melfi. Per tutti gli altri si aspetta un segnale da parte di Margherita Distribuzione. Un'altra volta vi faremo sapere, stiamo studiando. Io mi auguro che lo studio avvenga veloce entro il 21, altrimenti loro studiano e il malato muore. La Regione, per agevolare nuovi inserimenti produttivi in quell'area in grado di riassorbire le maestranze, ha stanziato 8 milioni di euro. Mentre i lavoratori, che da due mesi non percepiscono il fondo di integrazione salariale in vigore fino al 13 dicembre, rimangono in attesa che l'azienda sveli una volta per tutte se intende o meno erogare un incentivo all'esodo. Crediamo che la riunione del 21 sarà quella conclusiva per cercare di sapere se questi lavoratori devono aspirare al bando di concorso e trovare una nuova utilizzazione oppure devono essere licenziati o si devono dimettere per entrare in NASPIA.